Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come creare una cartella personalizzata piena di sfondi ovviamente personalizziamo così il nostro desktop pieno di immagini creandoci così una nostra cartella quindi in questo caso tu fai tasto destro sul desktop fai su nuovo crei così la cartella e la chiami come vuoi io la chiamo sfondi per windows 2.0 perché avevo già creato una cartella per non fare confusione con l'altra sfondi per windows e ovviamente qui dentro puoi metterci tutte le immagini che vuoi quindi in questo caso io adesso non ho nessuna immagine da mettere qui dentro però prendo qualche copertina che ho messo sul mio tutorial quindi prendiamo che ne so questa prendiamo questa prendiamo questa e prendiamo pure quest'altra ok tanto per farvi un esempio quindi una volta fatto tasto destro sul desktop personalizza scendi fino a giù fino a trovare sfondo personalizza lo sfondo clicca su immagine e metti presentazione andiamo su sfoglia questa è la cartella dove vanno messi così gli sfondi quindi io adesso cosa faccio prendo la cartella degli sfondi e la vado a mettere nella cartella immagini ecco qua una volta fatto vado su sfoglia e metto sfondi per windows scegli questa cartella è il metodo per mettere degli sfondi personalizzati in una cartella così ogni minuto possono scorrere puoi anche scegliere cambi immagini ogni minuto 10 minuti 30 minuti un'ora 6 ore uno al giorno quindi se questo video ti è stato utilissimo su come personalizzare così lo sfondo grazie alle cartelle di windows iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao grazie a tutti